Ci sono cose che i classici non ci hanno raccontato, conosciamo tutto quasi tutto di Edipo, molto di Antigone, poco o nulla di sua sorella Ismene. A questa dimenticanza Sofoclea rimedia con la modernità dei sentimenti di sempre, Femini e Fails, Affari di Famiglia, lo spettacolo di Econ Flavia Pezzo e Fulvio Cauteruccio che è andato in scena con successo a Segreti d'autore, il festival ideato da Ruggero Capuccio e diretto da Nadia Baldi. La vera e propria rivincita di una donna che assurge a simbolo di tutte le donne che non hanno voce, ieri come oggi, trattando temi che sembrano usciti dalle pagine dei nostri quotidiani. Ascoltiamo la protagonista Flavia Pezzo. Questo lavoro attraverso un taglio registico un po' punk, che è quello appunto di Fulvio Cauteruccio, racconta la storia di una donna, di una famiglia, le dinamiche di una società, la guerra, la sua atrocità, le lotte per il potere, tutto quello che oggi, ahimè, purtroppo vediamo ripetersi a distanza anche di secoli. Una visione contemporanea che emerge anche dalla regia di Fulvio Cauteruccio, dove la musica rock gioca un ruolo determinante e diventa emblematica del riscatto di Smene, una donna da sempre ai margini della storia, come conferma lo stesso regista. Abbiamo pensato di farla ribellare e la cosa che nella nostra contemporaneità è più dirottura, è più dirompente, naturalmente la musica rock, le chitarre, i sintetizzatori, insomma il fatto di utilizzare praticamente la stessa iconoclastia che è necessaria per far vivere un personaggio inferiore e farlo diventare invece un personaggio, una rock star direi. Applausi convinti di un pubblico attento.